Anche a me ha fatto sempre pensare a un cerviatto. Secondo me non capite niente tutte e due. Perché? Tu come ti vedi? Non so, direi piuttosto una pantera. Una pantera! Il mio coniglietto! Ti piace la torta di mele? La mamma l'ha appena fatta. E per papà lo sai. Per noi ho fatto comprare delle paste. Se vuoi puoi mangiarla questa sera, magari è... Magari ne conserviamo...